Cominciamo con una canzone che hanno richiesto alcuni bambini No, no, è peggio, è una forza delle canzoni più cretine che abbia mai scritto ma ha preso un significato particolare dopo che hanno cominciato ad ascoltarla i bambini e adesso comincio a crederci Solo una formica Sunt una formica Sunt una formica Sunt una formica Che raffa Voggi한테 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti